Ben ritrovati amici telespettatori in questo spazio che ha caratterizzato di fatto gli ultimi giorni della scorsa settimana e che oggi trova, potremmo dire, la sua logica conclusione. Dopo aver accompagnato il triduo di preparazione alla celebrazione eucaristica di ieri per commemorare il cinquantesimo anniversario della nascita al cielo di Madre Maria Crocifissa del Divino Amore, la beata figlia spirituale di Padre Pio al secolo Maria Gargani, celebrazione eucaristica che è stata presieduta dal Cardinal Marcello Semeraro alle 11.30 nella chiesa di San Pietro Pietrelcina qui a San Giovanni Rotondo. Oggi vogliamo fare un focus su questa celebrazione e in particolare su un annuncio, un annuncio che è stato dato da Madre Hortensia a Meogò nel suo discorso di ringraziamento al Cardinal Semeraro durante questa celebrazione. Ascoltiamo che annuncio ha dato Madre Hortensia. Per la prima volta l'insegna e reliquia del corpo di Madre Maria Crocifissa del Divino Amore, al secolo Maria Gargani, il prossimo 2 giugno, nel quinto anniversario della beatificazione, lascerà la casa madre del suo e nostro istituto, delle Suore Apostole del Sacro Cuore, a Napoli, e sarà portata nel paese natio, Mora de Sanctis, in provincia di Avelino, dove resterà fino al 4 giugno. Sarà custodita e potrà essere venerata nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, dove Maria Gargani ha ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Dunque la Superiore Generale delle Suore Apostole del Sacro Cuore, Madre Hortensia, ci ha rivelato ieri, diciamo a sorpresa, che il corpo della Beata, l'insegna e reliquia del corpo della Beata, Maria Crocifissa del Divino Amore, verrà portato per alcuni giorni da Napoli, dalla casa madre di Napoli dell'istituto, dove è sempre stato. Alla sua terra d'origine, a Morra de Sanctis, all'epoca Morra Irpina, e per parlare di questo evento, perché sarà un altro evento, Sor Gloria Pasquarello, postulatrice della causa di canonizzazione della Beata Maria Gargani, è qui con noi. Allora, com'è nata questa idea? Allora, l'Inea è nata proprio dall'entusiasmo della beatificazione e già cinque anni fa c'era stata fatta questa proposta dal parroco della, possiamo dire, della parrocchia dove la Beata è nata, Santi Pietro e Paolo, a Morra de Sanctis. Quindi già cinque anni fa, al momento dell'entusiasmo della beatificazione, c'era stato questo sogno. Purtroppo la pandemia ha bloccato un po' tutte le iniziative, però al termine, e grazie a Dio, stiamo riprendendo il cammino per cui il parroco Don Rino Morra è ritornato di nuovo questo suo sogno da realizzare. Far tornare la beata, la reliquia della beata, al suo paese natio, per sostare proprio nella parrocchia dove lei ha ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana. E quindi si è dato inizio a questo processo che è stato abbastanza lungo per le autorizzazioni, per l'organizzazione, perché ormai è membro della Chiesa, il corpo della beata è beata e quindi fa parte del patrimonio della Chiesa, è un testimone carismatico di tutta la fede cristiana e quindi va tenuta in una certa, possiamo dire, considerazione e soprattutto rispetto e decisioni necessarie per poter fare questo passo verso la venerazione aperta a tutti i fedeli. A partire dal suo paese natio, Morra dei Santis. E poi, ecco, provvidenzialmente questo progetto rimandato oggi si inserisce nel quadro delle iniziative commemorative del cinquantesimo anniversario della nascita al cielo di Maria Gargani. Il corpo della madre non verrà mai lasciato solo, giusto? Assolutamente no. È una reliquia, un testimone e quindi, come dicevamo prima, è davvero qualcosa di sacro ormai perché è proprio messo a disposizione per la venerazione dei fedeli, per cui ci sarà un bel gruppo di suore che accompagneranno i gruppi che verranno per la venerazione, sia per pregare, per portare le intenzioni di preghiera, per imitare le sue virtù, per cui ci saranno anche momenti di presentazione della sua vita, delle sue virtù, della sua storia e di questo suo cammino di santità. Tra l'altro la chiesa in cui sarà esposto alla pubblica venerazione, il corpo di Maria Gargani, rimarrà aperta fino a mezzanotte nei primi due giorni e il secondo e il terzo giorno aprirà alle otto del mattino. Quindi davvero ci sarà tanto tempo per poter pregare dinanzi all'insegna e reliquia del corpo della madre. Ma ora ci vogliamo collegare con Morra De Santis, con il parroco della parrocchia di San Pietro e Paolo, Don Rino Morra, il quale è stato il grande promotore, il grande sostenitore di questo progetto che ci ha messo cinque anni per essere realizzato. Benvenuto fra noi Don Rino, sebbene a distanza attraverso i collegamenti messi a disposizione dalla tecnologia e ti vogliamo chiedere come la comunità ecclesiale di Morra De Santis, affidata alla tua cura pastorale, si sta preparando a questo evento di grazia del 2, 3 e 4 giugno. Carissimi, ebbene vi ringrazio io a nome di tutta la comunità di Morra De Santis per questa opportunità che ci date di poter condividere con voi la gioia, ecco, di questo tempo di preparazione ad accogliere la reliquia della Beata Maria Crucifissa del Divino Amore con cittadina, ecco, della nostra comunità di Morra De Santis. C'è una meraviglia, c'è un'attenzione grande, c'è gioia, c'è forse anche un po' di incredulità, ecco, ecco in questo tempo particolare il poter avere, ecco, per dei giorni, la reliquia della Beata Maria Crucifissa del Divino Amore nuovamente nella comunità di Morra De Santis, nella Chiesa Madre, la Chiesa Parrocchiale dove la Beata Maria Crucifissa del Divino Amore ha ricevuto l'iniziazione cristiana con il sacramento del battesimo. Come la comunità si prepara? Bene, si prepara intanto perché è coinvolta appieno in questo momento particolare e soprattutto è un momento di catechesi, di far conoscere la figura della Beata, soprattutto alle nuove generazioni. Gli anziani un po' la ricordano, la ricordano ecco nei suoi ritorni a Morra De Santis con la famiglia Gargani, ma la fascia giovanile non ha proprio modo di averla conosciuta se non adesso attraverso i suoi scritti e in questo tempo di grazia che anche la comunità vive già dal 2018 quando ecco la Chiesa l'ha innalzata mediante la celebrazione euristica riconoscendola Beata ecco per poter chiedere anche a lei l'aiuto, l'intercessione ecco per i propri disagi, i propri desideri da voler chiedere al Signore ma soprattutto perché è una figura che ci fa continuamente innamorare ci parla del cuore di Gesù, ci fa innamorare del Vangelo, di quel Vangelo che lei ha saputo conoscere con tanto amore e dedizione ma soprattutto avendolo conosciuto ha saputo essere realmente una testimone, un'annunciatrice ma ancora oggi parla attraverso, ecco lei, la sua opera, le suore del apostolo e del sacro cuore parlano di questa grande opera dell'evangelizzazione, far conoscere il Vangelo alle nuove generazioni ebbene abbiamo puntato soprattutto con incontri rivolto ai bambini che si preparano quest'anno a ricevere la prima comunione e alle loro famiglie a far conoscere la figura della Beata e nasce tanta curiosità, tanta meraviglia e si domandano i bambini ma realmente Dorrino questa figura, questa suora di cui ci stai parlando è di Morra dei Santis, è della nostra comunità e di nostro paese la meraviglia come anche l'aiuto ai genitori nel far conoscere questa bella figura con tutto il tempo ecco che la Beata Maria Crucefissa ha vissuto da laica con la grande dedizione alla scuola, all'insegnamento, all'educazione ad aiutare le fasce giovanili del suo tempo ad avere quella dignità ad avere quella conoscenza del Vangelo, della scrittura ad essere aiutati a diventare persone indipendenti entrando sempre di più con la vera cultura ad essere cittadini del mondo Grazie Don Rino e allora non ci resta che dare l'ultima parola a Sor Gloria Pasqualello, alla postulatrice perché spetta a lei invitare tutti i nostri telespettatori, almeno quelli che sono in zona ad andare almeno per qualche minuto a pregare dinanzi al corpo di Maria Gargani a Morra dei Santis dal 2 al 4 giugno per chiedere qualche grazia perché no, ma soprattutto per chiederla grazia di poterla imitare sulla strada della santità. A te la parola Bene, il cammino della santità è importante e lei può esserci compagna di cammino, può esserci guida e ci può essere anche modello di come camminare soprattutto nelle situazioni più difficili della vita soprattutto quando il segno della croce incide i suoi segni che poi ci devono portare all'imitazione del Cristo crocifisso e dell'amore di Gesù per l'umanità Grazie Sor Gloria, restituisco la linea alla regia e poi dalla regia passerà subito dopo a Paola per proseguire, già studi di oggi Grazie a tutti